Il Tribunale del Riesame di Genova, secondo quanto comunicato dalla DN Cronos, ha confermato il sequestro dei beni della Lega al fine di recuperare i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali relativi alla truffa per cui è stato condannato in primo grado l'ex segretario Umberto Bossi e l'ex tesoriere Francesco Belsito. Il Tribunale del Riesame ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta anche delle somme di denaro che sono state depositate o verranno depositate sui conti correnti e depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord, fino a concorrenza dell'importo di oltre 48.900 euro. Non solo non esiste alcuna norma che stabilisca ipotesi di immunità per reati commessi dai dirigenti dei partiti politici, scrivono i giudici di Genova, ma anzi esiste una precisa disposizione di legge che impone la confisca addirittura come obbligatoria nel caso in esame. Era stata la Corte di Cassazione lo scorso aprile a rinviare al Riesame dopo aver accolto la richiesta della Procura di poter sequestrare fondi del carroccio, oltre a quelli già trovati. Se vogliono toglierci tutto, facciano quello che credono, ha commentato il ministro dell'Interno e il leader leghista Matteo Salvini. Abbiamo gli italiani con noi, sono vicende del passato, ha aggiunto il vicepremiere. Io spero che la Procura di Genova impegni il suo tempo sul disastro autostradale.